paghi 25 milioni e fai un triennale a Lukaku che ha 31 anni cioè ragazzi per me questa trattativa è una follia eccoci qua signori benvenuti in questo nuovo video io sono Dario del Toldarion e oggi in questo martedì 16 luglio siamo qui riuniti perché ci sono delle novità riguardo il calciomercato ieri ci siamo presi un giorno di pausa perché essenzialmente non c'era niente di cui parlare oggi tra l'altro è anche il giorno della prima partita del Napoli di Conde perché oggi alle 6 c'è l'amichevole contro la Naune quindi vediamo anche un po' le probabili formazioni prima di parlare di tutto questo vi ricordo l'iscrizione al canale mi raccomando ragazzi dobbiamo adesso raggiungere i 4.000 ecco il road to 4.000 iscritti iscrivetevi che è gratis e attivate anche la campanella detto questo ragazzi cominciamo subito e parliamo di calciomercato allora innanzitutto voglio partire con questa notizia data da Alfredo Pedullà che riguarda la difesa e sappiamo benissimo che la difesa è un reparto da tenere d'occhio perché Mario Ermoso dicono che sia fatta però giustamente hanno detto che bisogna prima sfoltire un po' perché adesso siamo in troppi e Pedullà praticamente ci ha detto che il giocatore che in difesa potrebbe partire è Ostigard pare che ci siano il Genoa e il Torino su di lui però non è da scudere anche un'opzione estera vediamo se si concretizzerà diciamo che o lui o Nathan sono loro i due nomi diciamo principali che dovrebbero partire appena uno o due partirà io penso che poi si chiuderà definitivamente per Hermoso detto questo passiamo alla notizia quella principale la notizia principe di questo video allora ieri sera Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti su Osiman vi vado a leggere il tweet allora Victor Osiman rimane nella lista del Paris Saint Germain nel caso in cui dovessero vendere un attaccante quest'estate nessuna proposta ufficiale sul tavolo ma è uno dei nomi nella lista del Paris Saint Germain intanto anche club diciamo sauditi si stanno informando su Osiman se dovesse partire Osiman il Napoli ha intenzione di andare su Lukaku allora andiamo per gradi prima frase Victor Osiman rimane sulla lista del Paris Saint Germain in caso in cui dovessero vendere un attaccante bene allora andiamo a vedere la rosa del Paris Saint Germain a livello di centravanti il Paris Saint Germain attualmente ha Ramos, Colombo Ani e poi c'è questo Musni ma credo che non sarà della prima squadra allora Gonzalo Ramos e Colombo Ani ha detto Fabrizio Romano che quindi se uno di questi due dovesse essere ceduto allora si andrà su Osiman quindi non è scontato ecco che succeda cioè oggi ho visto un pochettino non ci sono tutte queste voci di uscite su Gonzalo Ramos e Colombo Ani quindi diciamo che oggi Osiman non è diciamo un obiettivo prioritario perché anche loro devono sfoltire se dovessero essere ceduti uno di questi due allora si andrebbe su Osiman quindi prima cosa dobbiamo osservare il mercato in uscita del Paris Saint Germain e capire se Colombo Ani o Ramos dovessero partire oltre a Fabrizio Romano anche Gianluca Di Mazio ha dato delle info su Osiman e ha aggiunto delle cose ha detto praticamente che gli agenti di Osiman ieri erano a Parigi e ha detto una cosa interessante che il Paris Saint Germain avrebbe proposto tre contropartite per abbassare un po' il cartellino, diciamo il valore di Osiman chi sono queste tre contropartite? Carlos Soler, Nordi Mucchiele e Kang In-Li tra questi tre il Napoli sembra interessato solo al coreano allora ragazzi innanzitutto dal punto di vista economico diciamo che tutti e tre sono nomi che si possono fare ho visto su Capology Mucchiele e Kang verrebbero diciamo all'incirca tra i 7-8 milioni lordi di ingaggio ricordiamoci che tu vendi Osiman quindi ti liberi di almeno 10 milioni di ingaggio e in tutto questo ti sei liberato di Zenischi che aveva un lordo bello pesante quindi uno di questi tre li puoi prendere tranquillamente quindi dal punto di vista economico diciamo che non ci sono problemi il problema secondo me è da un punto di vista di organico perché? perché questi tre giocatori giocano in un ruolo dove a oggi siamo messi più che bene Mucchiele ragazzi è un esterno destro ma all'occorrenza può fare anche il braccetto destro tu a livello di braccetto destro stai messo bene e a livello di esterno destro c'hai Di Lorenzo, c'hai Mazzocchi, Polendo c'hai Zerbin quindi è un ruolo dove tu non hai la priorità di prendere qualcuno Kang In-Li ragazzi per me è da prendere è un ragazzo clamoroso perché l'ho seguito quando stava al Mallorca è un esterno mancino quindi giocherebbe teoricamente sotto punta di destra barra esterno destro c'ha 23 anni ragazzi è un talento puro io lo prenderei seduta stante il problema però ragazzi è che lì stai messo più che bene a livello numerico c'hai Politamo, c'hai Ngong, c'hai Raspadori, c'hai Gaetano e c'hai Lindstrom ne hai 5 sono troppi quindi qua se vuoi prendere Kang In-Li secondo me non devi liberarti solo di un giocatore ma ne devi togliere almeno due secondo me fai un upgrade secondo me è interessante prendendo Kang però anche qui devi prima sfoltire Carlos Soler ragazzi io non lo conoscevo diciamo come giocatore sono andato un po' a studiarlo ma proprio in maniera marginale sembrerebbe una mezzala destra barra esterno destro quindi magari potrebbe essere quel giocatore che va a sostituire Zenischi cioè quel calciatore che ti permette di giocare con un centrocampo a tre sarebbe quella mezzala che ti permette di giocare a tre perché oggi vedendo anche l'organico i moduli che userà il Napoli secondo me sono moduli che contengono una mediana a due quindi 4-2-3-1, 4-4-2, il 3-4-2-1 se vuoi giocare per esempio col 4-2-3 o col 3-5-2 magari Carlos Soler può essere quel giocatore che ti permette di farlo quindi lui potrebbe magari servire perché ti può switchare dal centrocampo a due al centrocampo a tre e poi ragazzi un'altra cosa da tener conto secondo me è che il Napoli storicamente non compra giocatori facendo la modalità cash più contropartite l'unica che mi ricordo è stata Ossiman tolto quello non ricordo altri acquisti con contropartite quindi sarebbe una cosa abbastanza anormale diciamo una cosa abbastanza particolare comunque tra i tre secondo me Cagli sarebbe il top bisogna vedere poi se lui è disposto perché può essere pure che lui vuole restare a Parigi così come gli altri due quindi diciamo che questa voce sulle contropartite non lo so perché ci sono tante cose da tener conto torniamo su Romano perché adesso voglio concentrarmi sull'ultima frase che è quella che mi terrorizza ragazzi lo dico mi terrorizza perché? perché Romano dice se Ossiman lascia allora il Napoli andrà su Lukaku detto proprio in maniera sintetica e la cosa mi terrorizza perché sono uscite le cifre Romano Lukaku è vicino al Napoli il Napoli è pronto a offrire 25 milioni al Chelsea per prendere l'attaccante che ha un accordo di massimo con Napoli per un contratto fino al 2027 da 6 milioni e mezzo anno i più bonus e nella trattativa sarebbe inclusa anche un'opzione per il 2028 paghi 25 milioni e fai un triennale a Lukaku che c'ha 31 anni cioè ragazzi per me questa trattativa è una follia ma una follia è negativo cioè tu vai a prendere un 31enne un 31enne e gli dai un triennale più opzione per un quarto anno dandogli 6 milioni e mezzo quindi teoricamente sarebbe il giocatore più pagato della Rosa addirittura più di Kvara perché Kvara dovrebbe prendere tra i 5 5 e mezzo 6 cioè tu gli dai 6 e mezzo più bonus più 25 milioni cioè ragazzi Lukaku questo non è più il Lukaku di tre anni fa quando stava all'Inter con Conte cioè ragazzi a maggio ha fatto 31 anni e nelle ultime tre stagioni guarda adesso vediamo allora Lukaku arriva all'Inter nella stagione 19-20 con Conte ok 36 presenze 23 gol l'anno dopo si ripete praticamente nella stagione 22-23 ritorna all'Inter dopo un'annata negativa al Chelsea 25 partite 10 gol e poi l'anno scorso balla Roma 32 presenze 13 gol cioè ragazzi Lukaku è nella sua parabola discendente tra l'altro ragazzi se voi andate su SofaScore e guardate il rendimento di Lukaku nella stagione che è appena finita noterete che si ha fatto 13 gol in Serie A e 7 gol in Europa League quindi totale 20 gol che è un bottino buono però se guardate bene le statistiche offensive noterete che Lukaku in Serie A ha sprecato 10 grandi occasioni da rete mentre in Europa League ne ha sprecate ben 6 quindi totale Lukaku si ha fatto 20 gol l'anno scorso ma ha anche sprecato 16 grandi occasioni da rete questo è un dato che secondo me non è da ignorare e che potrebbe significare che comunque Lukaku sottoporta i gol se li mangia e la cosa lo conferma anche la cronaca infortuni cioè guardate qua ragazzi nelle ultime 3 stagioni ha avuto un sacco di infortuni non è più affidabile dal punto di vista fisico è un giocatore che dal punto di vista del rendimento sta calando sempre di più è un giocatore ripeto che è entrato nella sua parabola discendente e tu gli dai un triennale da 6 milioni e mezzo gli spendi pure 25 milioni cioè ma seriamente Conte vuole Lukaku perché l'ho avuto all'Inter per me ragazzi è una follia poi tutto quello che volete si Conte e Lukaku si conoscono quindi già Lukaku già sa cosa chiedere a Conte tutto quello che volete avrei capito magari un prestito no un prestito con un anno e gli fai un diritto di riscatto ma tu gli fai un triennale cioè te lo tiri sul gruppone per 3 anni con un giocatore che col passare del tempo calerà perché calerà di condizione calerà di rendimento aumenterà la predisposizione agli infortuni ma onestamente mi viene a dire solo ma è una trattativa che onestamente non approvo per niente vi dico la verità Poi oh arriva 30 gol vinciamo lo scudetto va bene cioè chapeau però onestamente io a oggi ti dico assolutamente no ma poi anche è una trattativa che non non è da Napoli cioè tu sostituisci un giocatore come Osiman cioè Osiman quanti anni c'ha? 25 anni cioè tu sostituisci un 25enne con un 31enne sì a livello economico ci vai a guadagnare perché guadagni 100 ne spendi 25 l'ingaggio da 10 passa a 6 e mezzo ma dal punto di vista della resa sul campo secondo me ci vai a perdere cioè ovvio tu chiunque avresti preso sarebbe stato un downgrade rispetto a Osiman ma secondo me c'era qualcuno di meglio che era un downgrade minore rispetto a Lukaku secondo me poi ragazzi se loro hanno deciso così pazienza però secondo me ragazzi questa è una trattativa più no che sì vi dico la sincera verità comunque questo è quanto per quanto riguarda la parte calciomercato chiudiamo il video parlando un attimo della partita di oggi oggi alle 18 c'è Napoli a Naune la prima amichevole vi ricordo che questa partita è gratis per tutti la si potrà vedere su OneFootball e questa è la formazione che dovrebbe scendere in campo oggi 3-4-2-1 con Caprile in porta difesa composta da OneJesus Rachman e Rafa Marin centrocampo composto da Spinazzola Cajust Anghissà Mazzocchi e davanti Nistrom Politano dietro a Simeone allora Caprile in porta ci sta perché non c'è il Meret quindi si mette Caprile in difesa questi siamo attenzione ragazzi perché secondo me la butto lì se domani non dovesse proprio giocare Nathan potrebbe magari essere l'indizio che c'è una trattativa per lui non lo so la butto lì perché mi sarei aspettato un Nathan oggi invece dovrebbe giocare OneJesus braccetto sinistro Rachmane al centro con Rafa Marin braccetto destro al centro campo Spinazzola a sinistra Mazzocchi a destra ci sta perché non c'è Di Lorenzo al centro questi abbiamo quindi Cajustanghissà e davanti Nistrom a sinistra quindi Nistrom a sinistra Politano a destra e davanti Simeone perché ieri ha avuto un affaticamento Osimen poi bisogna capire se questo è un affaticamento reale o è un infortunio di mercato come diceva García l'anno scorso tra l'altro ieri ragazzi è stata secondo me una giornata importante dal punto di vista del ritiro perché ieri Conte ha attestato appunto la difesa 3 che ho fatto anche un post ieri pomeriggio si vedevano appunto Stellini che lavorava sui movimenti della difesa 5 attenzione oggi perché secondo me inizieremo già a vedere qualcosa tipo sulla fase di costruzione vedremo sicuramente la fase difensiva e anche la fase offensiva quindi vediamo come si comporterà il Napoli oggi ovviamente ragazzi non lo farò il post partita oggi perché non ha senso ne parliamo magari domani con calma facciamo una sorta di analisi tra virgolette anche se è un amichevole quindi ne parliamo magari domani in un video detto questo ragazzi il video finisce qui fatemi sapere un po' la vostra nei commenti secondo voi il Napoli fa bene a sostituire Oseman con Lukaku o pensate che ci sia di meglio sul mercato fatemi sapere la vostra lasciate un bel like se il video vi è piaciuto iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella detto questo noi ci vediamo domani e sempre e comunque forza Napoli Musica Grazie a tutti.